Oggi è la tappa conclusiva di un progetto molto importante che abbiamo realizzato con la ASL e collina in nazionale e che ha realizzato una mappatura di tutti gli organici del lavoro presenti nel porto di Taranto e delle varie imprese, sono state fatte delle analisi dei rischi, sono stati fatti dei corsi di formazione e tutto questo finalizzato soprattutto alla prevenzione e ad agevolare anche le attività di controllo futuro. Queste attività sono molto importanti perché un porto che vuole crescere, vuole diventare innovativo ha bisogno anche che venga fatta innovazione controllo e sicurezza nel mondo del lavoro. Tengo a precisare che questo è un progetto fatto con l'Università di Pisa e con l'Inail di Roma che ha visto l'avvio circa un anno fa con la sottoscrizione di un protocollo che ha coinvolto tutte le istituzioni che in qualche modo sono interessate nell'ambito della sicurezza portuale sul lavoro e quindi dopo la sottoscrizione è partito questo progetto, questo piano mirato di prevenzione che ha riguardato le aziende portuali con un momento di assistenza e supporto che ha riguardato la consegna di schede di autovalutazione alle aziende e quindi delle schede anche di testi di percezione del rischio ai lavoratori. È emerso tutta una serie di dati che sono stati elaborati dall'Inail di Roma che ha portato poi ad un'attività formativa mirata che ha visto il coinvolgimento di circa 700 operatori formazione gratuita e quindi supplettiva a quella che è prevista dalla normativa e quindi ha ulteriormente sensibilizzato per tutta l'area, per due tipi di motivi il primo legato alla casistica infortunistica molto importante che esiste nel porto e dall'altro per un avvio, ci auguriamo, di sviluppo proprio dell'area portuale che vede Taranto coinvolto in maniera molto interessante.